Ciao ragazzi, eccomi qui come l'anno scorso a farmi gli auguri di buon anno e quest'anno mi sono fatto un discorso, infatti penso che andrò di cervello che non ho però andiamo avanti allora, ringrazio l'Enna e l'Emmanuella per avermi fatto entrare nel mondo di Yves Rocher che piano piano sta diventando un lavoro per me, al 100% effettuamente perché ormai non lavoro più e quindi voglio mettermi lì quindi mando un grosso bacione a tutti e due e le ringrazio ringrazio la Mara che ogni anno come sempre mi vuole al suo fianco sia per le sfilate che per la Serena quindi un bacione a te e alla Serena poi chi ringraziamo? la nonna che è qua saluta al fianco a me e i miei genitori ringrazio chi è entrato a far parte della mia vita ma è anche uscito quindi grazie per questo anno che hai passato con me ma te ne sei andato chiunque tu sia poi ringrazio quelli che fanno parte della mia vita costantemente tra litigi e non litigi continuano ad essere presenti quindi gli mando un grosso bacione e gli faccio un augurio anche a loro ringrazio chi è entrato e sta rimanendo nella mia vita quindi auguri e bacioni bacioni ah ringrazio i miei micioni soprattutto il nuovo arrivato che è Simba che da qualche parte che al momento sta dormendo e quindi gli mando un bacione anche a loro lì faccio anche a loro gli auguri e che dire auguri a tutti quanti grazie 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 per far per vedere i miei video per per tutto mi mando un grosso bacione grazie a tutti belli e brutti che siano ciao ragazzi ci vediamo al prossimo anno ciao ciao ciao